Siamo di ritorno da Parma dove abbiamo appena terminato una grande giornata di lotta. Siamo stati fin dalle 7 del mattino davanti ai cancelli del magazzino Number One dove alcuni dei nostri lavoratori appartenenti alla cooperativa Taddei Training da circa un mese a questa parte erano stati vittime di rappresaglie, comportamenti antisindacali, trasferimenti punitivi e anche un licenziamento. Oggi abbiamo dato una grande dimostrazione di coraggio, di forza e di solidarietà contro qualsiasi tentativo di prevaricazione e di abuso contro i diritti dei lavoratori. Nonostante la presenza di guardie esterne che hanno anche messo le mani addosso ad un compagno, alla presenza di polizia e alle provocazioni da parte del Presidente dell'azienda, siamo comunque riusciti a portare a casa un incontro con la Prefettura dove abbiamo segnalato quanto accaduto. domani dovremo avere notizie maggiori, si apre la possibilità di un tavolo di incontro tra noi, Prefettura e azienda e speriamo che questa sia la strada intrapresa, altrimenti se l'azienda continuerà ad agire con prevaricazioni e discriminazioni contro i nostri tesserati, torneremo là davanti ancora più determinati, ancora più forti. Grazie! 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 Grazie!